Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi vi porto un cast challenge in collaborazione con, posso dirlo, famosissima youtuber. Voglio dirlo la parola famosa perché Alessandra, o come la conosce tutti i sweet sim, è su youtube comunque da tanti anni e per me è stata una delle prime che ho scoperto, voi sapete che io scoprì in primis Moira e poi dopo cercando anche altre perché ormai mi ero resa conto che esisteva questo mondo, sul gameplay è una cosa bellissima, io non lo sapevo per niente e quindi andavo alla ricerca anche di altre storie perché mi è sempre piaciuto vedere come gli altri concepiscono il gioco, come organizzano le loro storie, cosa le ispira, cioè mi ha sempre incuriosito vedere gli altri giocare e mi piace e quindi cercando cercando trovai sweet sim subito dopo l'indie e così via. Quindi Alessandra è comunque una persona speciale perché non l'ho mai detto a nessuno e ci tengo approfittando di questo video a ringraziarla perché prima di aprire il canale io le escressi dei messaggi e lei mi rispose, mi rispose sempre molto gentilmente, mi aiutò perché io le chiesi cosa usava per registrare, come si organizzava con i video perché comunque Alessandra ha sempre lavorato, io anche ho sempre lavorato quindi chiedevo lei come si organizzava, quanto tempo impiegava e insomma lei mi dispose che ovviamente il tempo lo si trova e che ci vuole tanta tanta passione, cioè se non si ha passione e amore per quello che si fa è normale che uno poi farà fatica ad andare avanti o gli mi sembra un peso e infatti graziale perché fare video non mi è mai pesato, io adoro questo mondo e penso proprio che l'avrete capito. Allora torniamo al cast challenge però i ringraziamenti ad Alessandra erano doverosi, non mi sembra ancora vero che stiamo collaborando, cioè è una cosa bellissima perché comunque è da tantissimo tempo che lo dicevamo. Poi ho visto dei youtuber americane e anche italiane, ovvero The Foxy Simmer e Lil Grey Simmer che hanno fatto questo cast challenge che si chiama Brie Date, ovvero appuntamento al buio ed è una cosa molto carina e quindi ho detto Alessandra facciamo questo perché appunto pensavamo di fare un video ma ancora non avevamo le idee chiare e lei vedendolo ha subito accettato perché è divertente e in pratica bisogna creare due sim e non dobbiamo dirci assolutamente chi stiamo creando, quindi se è maschio o femmina e poi sperare che appunto questi due siano un'anima gemella. La cosa divertente è che non sapendo potrebbero trovarsi davanti due maschi, in questo caso non dico due femmine perché ormai avete visto che io ho fatto un maschio oppure un maschio e una femmina e quindi bisognerebbe proprio vedere come andrà a finire. Infatti sono super curiosa ad andare a vedere il video di Alessandra e lei comunque in video perché ci siamo sentiti in privato ha detto se vi farebbe piacere vedere proprio una puntata di questo appuntamento al buio e io le ho risposto assolutamente sì però ti prego il video devi fare tu perché comunque lei è una tipa esfiziosa e super divertente quindi lo voglio vedere dall'appuntamento. Comunque lui è Colin Wood è un abitante di Brindleton Bay è un pescatore perché mi sono immaginata che la sua famiglia da generazioni ha dei mercatini del pesce e in più riforniscono i ristorantini locali quindi lui è abituato a fare questo, gli piace tantissimo, ama l'aria aperta, ama la tranquillità di questa cittadina e lui comunque ha avuto dal liceo una fidanzata era molto legato, innamorato, infatti ha sempre saputo nel suo cuore che lei era la sua anima gemella mai avrebbe pensato invece che per un motivo un giorno si sarebbero lasciati e lui ha il cuore a pezzi non riesce ancora a riprendersi perché appunto non si capacita che questa bellissima relazione è finita e quindi appunto si è iscritto a questo programma di appuntamento al buio quindi mi sono immaginata questa storia per Colin allora, ritornando poi al discorso di questa futura serie a cui sto dedicando davvero molto tempo e che vi sto anche riempendo la testa così se non sapete di cosa vi sto parlando in pratica gli ultimi speed build riferiti agli appartamenti tipo autunnal apartment, industrial apartment, feminine apartment e brooklyn apartment ecco già lì io vi ho presentato tramite l'appartamento i personaggi di questa futura serie ecco Colin Wood mi è piaciuto talmente tanto che lo sto inserendo in quella partita non come protagonista della serie i protagonisti sono quei quattro che vi ho già presentato però ecco lui comunque avendo avuto qualcosa a che fare con uno di loro ovviamente quando ne parlerò ve lo farò vedere, vi farò vedere dove abita insomma parlerò un po' di lui e poi scoprirete chi è che questo ragazzo gli ha spezzato il cuoricino e adesso è da vedere appunto quello di Alessandra cioè se anche il sim o la sim di Alessandra riuscirà un po' a farlo stare di nuovo bene farlo ritornare sereno eccetera eccetera comunque vabbè niente mi sono divertita troppo anche immaginarmi la storia di lui spero che vi piace ovviamente lo preferite in galleria mi raccomando andate anche a vedere il video di Alessandra e noi ci rivediamo al prossimo video tanti piaci e commentini ciao 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 ciao